Basta, 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 l'atletico già ha bloccato la roba sullo stomaco, col Bologna viene voglia di vomitare, infatti ho rimosso la partita dal cervello perché sennò caccio tutto quello che ho mangiato, ragazzi, ma non ci riesco, mi viene in mente veramente il primo tempo, il secondo, scusate, 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 vattene, levatemi dal cazzo questo allenatore, levatelo dai coglioni,